L'idea che una parte della sua famiglia sia rimasta in Afghanistan è un pensiero fisso per Ahmad, questo è il nome che abbiamo scelto per lui per proteggere la sua identità, da quando pochi mesi fa, insieme alla moglie, la madre e i figli, è arrivato in Italia a bordo di un aereo militare italiano. Ciascuna famiglia aveva un numero limitato di posti a bordo, così ci ha spiegato Ahmad, per questo le due giovani sorelle non sono riuscite ad imbarcarsi. Oggi vivono barricate in casa, a Kabul si nascondono dai talebani. Non riesco a smettere di pensare a loro, siamo molto preoccupati, se fossero uomini ci sentiremmo molto meglio, potrebbero lasciare il paese. Siamo molto preoccupati non solo per le mie due sorelle, perché nessuno si prende cura di loro, ma per tutte le donne afghane in generale. Non possono lavorare, non possono fare nulla. La famiglia di Ahmad appartiene alla minoranza sciita azara, di origini mongole, da tempo perseguitata, sia dai talebani che dallo Stato Islamico. Ad un destino già difficile si sono aggiunti tragici eventi degli ultimi mesi. Negli ultimi quattro anni non ho mai lasciato Kabul per tornare nella mia città natale. Ho sentito che più di cento persone all'interno della nostra comunità, comprese le donne, sono state decapitate dai talebani. La madre di Ahmad da giorni non ha appetito e non riesce a dormire. Da quando è arrivata in Europa ha perso il sorriso. Ogni giorno parla con le figlie al telefono. Sono felice di essere qui, ma continuo a pensare a loro. Sono donne e nessuno le protegge. Ogni volta che parlo con loro mi dicono che la situazione è pericolosa e per questo sono molto spaventate. Per quanto sia difficile adattarsi ad un nuovo paese, ad una nuova cultura, oggi rispetto a prima alla famiglia si sente libera e vive in sicurezza. Penso al futuro dei miei figli. Qui hanno la possibilità di studiare e avere un futuro. È molto meglio essere qui, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. La nostra vita qui non è a rischio. Nessuno dei cinque figli ha vissuto sotto i talebani in passato e improvvisamente hanno smesso di sognare. Non riesco a concentrarmi sulla mia vita, non so cosa fare. Dovrei pensare solo a me stessa? Non riesco. È difficile per una ragazza e per tutti coloro che sono in Afghanistan. Il mio sogno era fare politica, ma ora ho cambiato idea. Voglio fare l'artista oppure il medico. Ma ciò che i figli di Hamad e le nuove generazioni hanno conquistato negli ultimi anni li fa sperare in un futuro migliore. Credo che un giorno tornerò in Afghanistan, così potrò aiutare la mia gente e il mio paese. Giorgia Orlandi, Euronews.